È un documento deludente, non c'è scritto nulla. In realtà fermerà la Regione Abruzzo per dieci anni, perché questo documento doveva essere quello più importante di questa legislatura e a maggior ragione per il Governo regionale insediato sia a febbraio. A parte il riconoscimento del lavoro e degli interventi previsti con e del Masterplan non c'è proprio nulla. Anzi vengono cancellati i nuovi ospedali, viene cancellata anche la stessa parola cultura e anche su altre questioni molto importanti nel rapporto tra aree interne e costiero, nella questione molto rilevante della viabilità non c'è nulla. Noi portammo, dichiarammo di portare, poi siamo riusciti effettivamente a portare a casa quasi 60 milioni di euro per le strade provinciali. Loro scrivono senza risorse faremo un'agenzia di manutenzione delle strade provinciali. Davvero è molto deludente perché con questo documento economico e finanziario la Regione rischia di pagare il prezzo anche per l'intera prossima legislatura che non trovandosi alcun intervento in eredità come noi abbiamo fatto per loro evidentemente dovranno riprogrammare da zero. Noi chiediamo che il Governo regionale dia un indirizzo. Questo documento è vuoto perché manca completamente di qualsiasi indirizzo politico. È stato consegnato in modo burocratico agli uffici e hanno visto il documento economico e finanziario sostanzialmente come un documento da trattare burocraticamente. Come a dire prima ce lo loviamo di torno e meglio è. Comprimeranno gli spazi della discussione. Hanno già detto che ci daranno appena quattro giorni per discutere sia del DEF che del bilancio. Ma soprattutto è privo di qualsiasi elemento utile che disegni e dia una visione alla Bruzzo. Chiaramente sono arrivati talmente in ritardo con il documento economico e finanziario che è il primo documento contabile che non possono procedere con il secondo. Credo che in queste ore se hanno trovato un accordo all'interno della maggioranza procederanno all'approvazione. Ma sostanzialmente significa comprimere la discussione in Regione Abruzzo per il bilancio in appena quattro giorni. Tant'è che non hanno discusso né con le parti sociali né con i portatori di interesse e men che meno con il Consiglio regionale. E io credo che neanche la maggioranza sia a conoscenza dei documenti di bilancio. Grazie a tutti.